Ciao a tutti, bentornati su Battle Spirit Central Oggi andiamo a vedere il lore set che è stato da poco rivelato Erano già state rivelate qualche singole ma ora abbiamo lo spoiler completo Quindi andiamo subito nel video Piccola premessa per iniziare, ditemi se vi piace più schermo intero Oppure con un po' di sfondo Ciò che sono cose da niente ma sto provando vari setup Mi interessa sapere qual è il più bellino secondo voi Comunque andiamo a vedere che costerà 30 dollari Quindi più o meno anche 30 euro secondo me Uscirà a settembre 2023 quindi ci siamo davvero vicini Avremo il lore book, le promo Sono 10 promo diverse in duplice copia Quindi per avere il playset bisognerà comprare il per due E due booster pack del BSS02 Dunque andiamo a vedere le carte Allora qua abbiamo una bellissima grafica L'ora si chiama Ancient Hero S'avrei dovuto specificarlo prima 29 settembre Sarà la data di uscita Qui leggiamo la nascita di un impero Che unificherà il mondo intero Per la prima volta nella storia Due eroi Kei, il primo imperatore, Manaka God Slayer Hero Dunque qua vediamo un riassunto di quello che abbiamo Queste sono tutte le promo Il lore book molto interessante E vediamo che le abbiamo tutte in duplice copia E vi dico già Questa carta qua, God Slaying Avrà un'errata Questo perché andrà in stampa Andrà in stampa con questa gemma qua gialla Ed è una magia Quindi le magie non hanno le gemme E niente, è un'errata L'hanno già specificato Si parte bene Comunque c'è poco Poco male Non cambia un granché Dunque partiamo dalla nostra prima carta Six Ages Emperor Key E vediamo che è della famiglia Six Ages Emperor Sette con tre riduzioni di costo Spirit rosso Cinquemila, settemila, diecimila Uno, tre e cinque Abbiamo effetti Quando evocato Dai nostri scatti Selezioniamo uno spirit per ognuno Per ogni colore insomma Purple, yellow, white, green and blue Quindi tutti i colori tra nel rosso E ce lo rispostiamo in mano Quindi potenzialmente possiamo portarci Fino a cinque spirit dal trash alla mano Qui ovviamente andiamo in mazzi di più colori Assolutamente E promuove molto il multicolor Che non è male comunque Comunque soltanto a livello 3 Quando questo spirit attacca Selezioniamo uno spirit dell'avversario Con 3000 o meno Per ogni spirit con un simbolo diverso Sul nostro terreno E lo distruggiamo Gni Non è un granché questa carta Insomma è molto situazionale Prevede di giocare con molti colori Probabilmente con tutte le altre carte del lore set Ma Io l'ho già guardato un po' Non sono particolarmente competitivi A parte un'eccezione E Sì Niente di particolare Gli effetti sono carini comunque Molto interessanti Bisogna vedere cosa si riuscirà a fare Sperando che in futuro queste famiglie Riceveranno più supporti Anche perché È il primo lore set Questo qua Ce ne saranno tanti altri Quindi insomma Vedremo un po' cosa ci riserva al futuro Comunque questa carta qua Al momento non è molto Non è assolutamente giocabile Abbiamo Un Lord Dragon qua Un grande ritorno Per gli appassionati Dell'anime Che l'hanno seguito anche nelle Saghe successive a Brave Dunque abbiamo War Dragon 7 contro la riduzione di costo rosso Quindi altro spirit rosso Abbiamo 5.000 6.000 11.000 Quindi non male come punti battaglia Questo spirit per the confront Se abbiamo un burst settato Cosa che Se ci facciamo un mazzo Un pochino attorno Può succedere molto facilmente Quindi Abbiamo confront Quasi assicurato Insomma Soltanto a livello 3 Quando questo Mentre questo spirit attacca Quando il nostro avversario Ottiva un burst Che non condivide un colore Con uno dei simboli Sul loro terreno Possiamo spostare un nucleo Dalle sue vite Alla riserva Dunque Questo qua Andremo un po' A counterare ai shield Praticamente Perché ovviamente Se l'avversario gioca Con un mazzo che non è bianco E risponde con la vita Un attacco Per usare E poi usa i shield E la vita che si riprende Praticamente Se la deve ritogliere subito Questo va a vanificare Va molto a vanificare Ai shield E le costringe a giocare I prossimi Se ne ha Dalla mano Comunque lo riduce a una vita Se siamo in una situazione Di late game L'effetto è buono La carta Non tantissimo Cioè Ha del potenziale Ma secondo me Sarà un pochino Sopravalutata Questo perché comunque È anche uno spirit con comprend Quindi Dobbiamo un attimo Deciderci su qual è Lo scopo della carta Distrugge gli spirit Dell'avversario Diventando grossi Oppure Appunto annullare ai shield Questo contrasto La rende Una carta che non sa tanto Quello che vuol fare Secondo me E poi anche È abbastanza Costosetta Ed è una famiglia Che non va a interagire Né con Star Dragon Né con Terrasauro Che sono i due archetipi principali Per adesso Ma neanche con Dragonoid Quindi Non credo che troverà Che troverà molto spazio Nel meta Nel meta attuale Magari poi andando avanti Speriamo che Che troverà più spazio Ecco Sarebbe molto bello Passiamo al viola Abbiamo Imperator Manaka Che è l'altra carta Che è raffigurata Sulla copertina del lore set Abbiamo 6 riduzioni di questo 3 Di tipo Imperator 4.000 6.000 10.000 Quando è evocato Selezioniamo Uno dei Vodular Del nostro avversario Lo distruggiamo Quando questo spirit attacca Soltanto a livello 2 e 3 Possiamo selezionare Uno degli spirit impegnati Dell'avversario E targettarlo Quindi facciamo Target Attack E soltanto a livello 3 Quando questo spirit attacca Questo spirit guadagna 5.000 punti in battaglia Per ogni spirit War Dragon E Aegis General Che controlliamo Quindi qui va in combo Con le altre carte Del lore set Per capire meglio Questa carta Bisogna andare a vedere La prossima Che è questa qua Questo spirit giallo Che è un Costo 2 Con una riduzione di costo Aegis General Fable Beast Costo 2 Quindi interessante Light Aegis General Fale Inis Quando viene evocato Ci permette di selezionare Uno spirit dell'avversario E di fargli prendere Il Void Lord type Quindi diventa Void Lord Questo ovviamente Va in combo con Manaka Che quando è evocato Ci permette di selezionare Un Void Lord E distruggerlo Questa combo Sarà mai fatta? Probabilmente no È carina Ci sta Però la sinergia qua È molto tirata Insomma Cioè Proprio devi pescare Questa duplice combo Di carte In un mazzo che sia giallo E o viola Per distruggere Uno spirit dell'avversario Diciamo che Si può fare Molto più facilmente Probabilmente sia col giallo Che con Che con il viola Soprattutto con il viola Vedi Baculus, Grus Dragon E qualsiasi altra carta viola Quindi Anche queste carte qua Abbastanza bocciate Per il meta attuale Qui abbiamo un'altra carta Che è super bocciata E Qui come vedete Infatti si conferma Anche come ho detto Carte non buonissime Abbiamo Aegis General Machine Beast Quattro riduzioni di costo 2 Non sto neanche a leggere il nome Perché è impossibile Durante la texture di entrambi Soltanto a livello 2 Quindi con quattro nuclei Tutti i nostri Imperator e Aegis General Prendono Armor Red, Purple e White Quindi è più o meno Un enterprise Scarsissimo Soltanto per queste famiglie Che per ora sono Quasi non rappresentate Da notare che è Machine Beast Però non dà immunità A Machine Beast Quindi Un grande rip Quindi sì Direi che si conferma il trend Che tutte queste carte Del loro set Vanno a lavorare insieme Senza fare Un gran che Almeno attualmente Qua arriviamo Veramente alla carta Più forte del loro set E questa carta qua È veramente forte E andrà a incentivare Un sacco il verde Secondo me Specie in combo con Beldegore Adesso andiamo a vedere Il motivo Abbiamo Tokiwa Si chiama comunque Come la X È Preybird anche Oltre che Aegis General 5 riduzioni costo 3 3.000 5.000 8.000 E l'effetto più importante È durante l'end step Dell'avversario All'inizio della step Se abbiamo meno carte in mano Del nostro Del nostro avversario Possiamo pagare Sol Core E spostare questa carta Dal trash in mano Quindi voi capite Che andiamo a riciclarla Tantissime Infinite volte Potenzialmente Finché abbiamo Sol Core da pagare Per Beldegore Perché Noi caliamo questa Caliamo Beldegore Caliamo questa Beldegore viene distrutto Questa viene distrutta Beldegore Torna Grazie a Immortalità Ricordo che È Immortalità 4-5 Alla fine del turno Dell'avversario Paghiamo Sol Core Ci riprendiamo in mano Questa E così possiamo Riciclarci Beldegore Tra virgolette All'infinito Ecco potenzialmente Oltretutto Gale 2 Quando attacca Sti cazzi Non è male Qui Prima carta blu ragazzi Prima carta blu Che vediamo Ancora prima del BSS 03 Abbiamo Revolutionary Zeion Beastfolk 9 con 4 riduzioni Costosissimo 5.9000 Solo a livello 2 Quando questo spirit attacca Selezioniamo un Nexus Dal nostro trash E lo posizioniamo E uno potrebbe dire Sì dai è forte Allora L'effetto in sé Non è male Il problema è che viene Da uno spirit di costo 9 Con riduzioni di costo blu Quindi colore Quindi colore che non esiste Ancora Con Livello 2 Molto costoso 4 nuclei E oltretutto Il Nexus Non lo possiamo Ancalare gratis Bisogna pagarlo Quindi È un costo atroce Ci sta Visto che non ci sono Altre carte blu Questa qui Uno se la tiene Da parte Poi magari In futuro Verrà utile Anche se non credo Cioè io spero Che ci sia qualcuno In grado di fare Questa cosa In maniera un po' Più efficiente Diciamo Dal punto di vista Dei nuclei Ecco Nel futuro Quando uscirà blu Comunque è interessante Dai la prima carta blu Ce la teniamo lì Passiamo ai Nexus Abbiamo Questo 5 riduzioni di costo 3 Victory e Hot Due nuclei a livello 2 Quando posizionato Entrambi i giocatori Pescono una carta Pescano due carte Scusate E soltanto a livello 2 Durante l'attack step Quando uno dei nostri spiriti Distrugge uno spirit Con 3000 o meno Possiamo refresciarlo Carta abbastanza pessima Onestamente Perché far pescare Il nostro avversario Due carte Mi viene da chiedermi Quando possiamo pescarne due Semplicemente Unando una Starblast O una Charged Draw E Diciamo che Distruggere uno spirit Di 3000 punti di battaglia Non è una cosa Che viene così tanto spesso Ultimamente E comunque non avviene Così tanto spesso In late game Quando uno Terrà a livello 2 Questo Nexus Oltretutto molto costoso Questa 5 Quindi Meh Anche questo bocciato E poi Nexus verde The Imperators Great War 4 traduzioni di costo 2 Durante l'attack step A livello 1 Quando uno dei nostri spirit Imperator O Aegis General Distrugge uno spirit Dell'avversario in battaglia Possiamo impegnare Questo spirit Impegnare questo Nexus E ottenere un core E ottenere un core Dal void Su questo Nexus Ok Cioè Buono Ma ok No Non è così utile Rampare uno impegnando Su un Nexus E pagare 4 Per un Nexus Che fa solo questo E oltretutto E oltretutto Lavoro soltanto con gli Imperator E gli Aegis General Mentre soltanto a livello 2 Sempre durante la nostra attack step Quando uno dei nostri spirit Riduce le vite Dell'avversario Possiamo scartare una carta E pescarne una Perché dobbiamo scartare la carta? Cioè Già il verde Non pesca niente Perché dobbiamo Pescare la carta? Dobbiamo scartarne una Per pescarne una Cioè Mi sembra puro masochismo Non so E Quindi sì Direi super bocciata Anche questa E Andiamo a vedere la Magia Gialla Magia Gialla God's Lane 4 con 3 riduzioni di costo E allora Burst Quando l'avversario Attiva un One Summoned Possiamo Gli spirit dell'avversario Che costano 2 meno Non possono attaccare O bloccare durante questo turno Poi possiamo pagare il costo Ovviamente la carta Per Attivare l'effetto flash Quando Risolviamo la prossima battaglia Durante questo turno Invece che comparare i punti battaglia Si compare il costo E lo spirito Il costo più alto È distrutto Se i costi sono uguali Entrambi gli spiriti Vengono distrutti No C'è anche questa carta qua Veramente bocciatissima Non Non credo che vedrà assolutamente gioco Ma Questa neanche in futuro Direi Non Sarebbe stato meglio Forse che avessero fatto quei livelli Invece che i costi Come diceva Robbins Non so se lo seguite E si Non Non mi piace tanto Neanche questa Comunque con questo abbiamo concluso Fateci sapere un pochino Cosa ne pensate Direi che Non sono un gran che queste carte qua Sarà sicuramente figo averle Sicuramente fighissime Il lore book Però insomma Per ora Di giocabile C'è solo Tokiwa E la cosa mi fa piacere Comunque perché è una carta verde Che Il verde ha bisogno di buoni supporti Però per tutto il resto Spero Che diventino giocabili in futuro Spero Perché ora come ora Proprio poca roba Secondo me Bene Come al solito Commentate con quello che Ne pensate Mettete mi piace al video Iscrivetevi se ancora L'avete fatto Siamo arrivati a 400 Spero ci siamo ancora E non siamo calati E Quindi noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao